Ciao a tutti amici di Sgananzium, questa puntata in realtà non è una puntata ma è solo un video per ringraziarvi e augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. Certo per l'occasione avrei potuto indossare un cappello do Babbo Natale o una foltissima barba bianca, ma ho preferito rimanere al naturale, che diciamoci la verità non è proprio stata la mia opzione migliore. Ci tenevo a ringraziarvi personalmente perché in questi due anni, devo dire, siete diventati davvero tantissimi, mi dà davvero una grandissima soddisfazione vedere quanta gente riesce a seguirmi, quanta gente mi dà consigli, quanta gente mi suggerisce come migliorare il canale e quali titoli andare a recensire, perché magari spesso non ho la possibilità di andarmi a informare su tutti i titoli appena usciti, quindi ben accetti assolutamente tutti i consigli che mi date su quali titoli potrei andare a recensire. Quindi niente, vi auguro di passare alle feste in compagnia dei vostri cari, ma soprattutto dei vostri titoli migliori, di giocare tantissimo, soprattutto durante il Capodanno, per chi ne avrà appunto la possibilità. Speriamo che il 2017 sia un anno ludicamente parlando fantastico, insomma le premesse ci sono, ho già visto qualche titolo che mi ha incuriosito e che ho cominciato a seguire, ci sono un po' di Kickstarter che approderanno, anche quelli mi incuriosiscono parecchio. E che altro dire, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!